Ciao amici di ciclisti dal caso e benvenuti in questo nuovo video Oggi scriverò che cosa abbiamo fatto nel giro Nell'ultima parte Intanto volevo dire Che Il giro che volevamo fare Era andare fino a Castelfrentano Ma La batteria si è scaricata e non ho potuto Filmare oltre Tornando al video La strada che abbiamo fatto E' la marrucina Passano sempre macchine, cani, camioncini Tir Quindi bisogna stare attenti E andare Stare verso la destra Il punto dove si è scaricata la telecamerina E' esattamente dove siamo andati A bere alla fontanella Stavo guardando se Era ancora carica la batteria E' apparsa la scritta Batteria scarica Come batteria scarica? Come è possibile? E dopo un po' Si è spento lo schermo Non si accendeva più Abbiamo pensato che appunto La batteria Sarà scaricata Non dico altro E vai con le sigle Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, lo so, come si fa. Siamo arrivati in Orsonia. Siamo arrivati in Orsonia. Sono ancora triste perché non siamo ancora arrivati alla città. Sì, che si è prestato? No, di Orsonia. Quasi, Andrea. Dove è punto che siamo arrivati in Orsonia? Sì, è arrivata una macchina. Poi siamo a curva trafficata, lo so. E si inclina anche. E si inclina anche questa curva? Sì. Perché? Sì, è arrivati qua. 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 Sì. Sì. Sì, è arrivati qua. Sì, è arrivati qua. Sì. Sì, è arrivati qua. No, è arrivati qua. Sì, è arrivati qua. Sì, è arrivati qua. Sì, è arrivati qua. , è arrivati qua. Sì, è arrivati qua. , è arrivati qua. Sì, è arrivati qua. , è arrivati qua. No, no, è arrivati qua. No, è arrivati qua. No, no, no. Grazie. Grazie. Grazie.